il prosciutto è un taglio della carne del maiale in campo alimentare il suo uso principale rappresenta la preparazione di due salumi il prosciutto crudo e il prosciutto cotto il melone o popone è una pianta annua rampicante della famiglia cucurbitacee della quale sono state selezionate innumerevoli coltivar ciao a tutti alla prossima